Ho ritenuto indispensabile che il Parlamento europeo, che i deputati europei che ringraziano essere presenti facciano un gesto di ringraziamento nei confronti di quelle persone che con un alto senso civico oggi partecipano al tentativo di curare la città di Milano e di curare le altre città d'Italia. Io penso che il dramma del reato delle borseggiatrici sia una metastasi per il nostro Paese, una metastasi che va assolutamente curata velocemente perché crea danni importanti per chi subisce questo furto. Sono anche una cattivissima pubblicità per le nostre città, che sapete essere spesso delle fabbriche del turismo, cioè stanno in piedi grazie al turismo. Quindi l'iniziativa di oggi è da un lato una forma concreta per ringraziare coloro che ogni giorno sono in prima linea e qui ne vedete tre estremamente attivi al mio fianco e li ringrazio. Dall'altro lato lanciare un campanello d'allarme a questo Parlamento che spesso stanzia risorse per l'integrazione dei rom. Il Parlamento europeo deve rendersi conto che il mondo reale è diverso, che oggi se bisogna stanziare delle risorse bisogna stanziarle per le vittime del borseggio, cioè per coloro che sono vittime del borseggio e non per coloro che invece alimentano questo reato. Sono Mattia Pezzoni, Presidente del Comitato Sicurezza per Milano, oggi sono qui a Strasburgo per portare appunto il problema delle borseggiatrici a Milano e chiedere appunto il cambio della legge 146, perché è inaccettabile che un gruppo di donne in stato di gravidanza non finiscono in carcere, sono sempre rilasciate dalle forze dell'ordine e dallo Stato italiano. Io sono Giovanni Santarelli, fondatore della pagina della realtà digitale Milano Bella da Dio, che da fine 2021 segue il caso delle borseggiatrici di Milano, come tante altre tematiche di disagio della sicurezza della città di Milano. Personalmente ho una pagina da 200.000 followers, di cui l'85% milanesi, e quello che faccio io è comunicare, quindi portare sui social, Instagram eccetera, Telegram, i video che vengono fatti dai cittadini che svolgono questo appunto, questo compito che dovrebbe essere svolto dalle istituzioni, di andare a filmare le borseggiatrici e raccontare le loro tecniche. Io sono Lazzaramo, sono un inviato di Milano Bella da Dio, a me arrivano ogni giorno tantissime segnalazioni che appunto le metto in tempo reale in modo che la gente che ci segue, più di 200.000 persone, riescono a stare attenti. Il fatto è che tanti turisti, anziani che non sanno che noi esistiamo, loro sono le prede preferite di queste persone. Le città importanti come Milano, come Bologna, come Venezia, non meritano e assolutamente vanno difese.